Oggi è stata una giornata di vittoria perché effettivamente dopo nove anni di dura lotta che il GIP possa scrivere che si è trattato di omicidio, questa cosa ci ha sicuramente dato ancora di più forza di andare avanti perché per quanto riguarda la parola suicidio mai non esiste più e siamo riusciti a dare dignità a Mario. Il prossimo passo sarà sicuramente quello di chiedere aiuto alle istituzioni italiane come potrebbe essere la Farnesina o il Ministero degli Esteri per cercare il loro supporto per far sì che il caso venga riaperto in Spagna. Sicuramente la Spagna ha fatto errori sin dall'inizio, noi l'abbiamo sempre urlato che gli Spagna in realtà non hanno fatto le sue indagini, è stata fatta un'autopsia falsa e quindi diciamo che tutto adesso riparte da lì. Ci muoveremo in tal senso perché noi come in questi nove anni abbiamo lottato, continueremo a lottare fino a quando il nostro Mario non avrà una giustizia completa.